Un bambino di sette anni è rimasto ferito al volto in un incidente stradale verificatosi sulla statale 640 Caltanissetta Grigento nel pomeriggio di oggi. Il sinistro si è verificato nei pressi di Caltanissetta. Tutto ruota intorno all'impatto tra due automobili, una Renault Megane su cui viaggiava il piccolo insieme al padre che era alla guida e una Opel Corsa a bordo della quale si trovava una famiglia di tedeschi. Le auto, secondo una prima ricostruzione, si sono scontrate lateralmente. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le condizioni del bambino che è stato trasportato in ospedale per essere curato e sottoposto ad accertamenti non destano preoccupazioni.